La temperatura aumenta o diminuisce? Aumenta! Tutti mi dite che aumenta? Sì, sì. Nessuno diminuisce di chi è che diminuisce? Il braccio è lungo? Allungando il braccio abbiamo diminuito la forza. Un soldato romano è arrivato. Questo è che c'è il... Bravissima, un applauso Sofia. Grazie. Vito, tutto chiaro? Sì, sì. L'oggetto sia lì sotto. Non lo puoi rifare in casa. No, non lo facciamo così. Non lo facciamo così e facciamo così. Vai, bene. Ti fa prendere. No, no, c'è almeno una sfida. La foto è... Vediamo con il flash. Ah, che carino, voglio vedere. Perciò... ... Grazie a tutti.